Aristotele ha diviso i beni della vita umana in tre classi, i beni esteriori, i beni dell'anima e i beni del corpo. Conservando di ciò solo la tripartizione, io dico che tutto quello che differenzia le sorti dei mortali si può ricondurre a tre determinazioni fondamentali. Quindi, esse sono ciò che uno è, ciò che uno ha e ciò che uno rappresenta. Ciò che uno è riguarda la sua personalità nel senso più ampio del termine. In questa classe sono quindi compresi salute, forza, bellezza, temperamento, carattere morale, intelligenza e la sua cultura. Ciò che uno ha riguarda le proprietà e i possessi. Per ciò che uno rappresenta si intende, come ben si comprende, ciò che uno è nella rappresentazione degli altri e quindi come da essi viene rappresentato. Ciò consiste nell'opinione che gli altri hanno di lui e si può distinguere in onore, rango e fama. Nel primo gruppo devono essere considerate le differenze che la natura stessa ha posto tra gli uomini. Dal che si ricava già che sarà molto più importante e radicale l'influsso di queste differenze sulla felicità e l'infelicità umana, che non di quelle caratteristiche degli uomini che scaturiscono dalle diversità che possono essere semplicemente ricondotte agli altri due gruppi. La cosa fondamentale per il benessere dell'uomo è chiaramente ciò che risiede in lui stesso o che da lui proviene. È proprio qui che sta l'origine immediata del suo benessere o malessere e che costituisce il primo frutto del suo sentire, volere e pensare. Mentre tutto il resto che sta al di fuori di lui ha un'influenza solo mediata. Gli stessi avvenimenti o rapporti esterni producono perciò sulle persone effetti diversi e ognuno vive le stesse circostanze all'interno di un proprio mondo. Si ha a che fare infatti immediatamente solo con le proprie rappresentazioni, con i propri sentimenti e moti di volontà. Le cose esterne influenzano gli uomini solo in quanto ne sono l'occasione. Il mondo in cui ognuno vive dipende anzitutto da come esso viene compreso e assimilato da ognuno e si conforma ai diversi cervelli. A seconda di questi risulta povero, vuoto e piatto, oppure ricco, interessante e pieno di significato. Mentre ad esempio qualcuno invidia un altro per gli avvenimenti che gli sono accaduti nella vita, dovrebbe invece invidiare piuttosto il dono di viverli in quel modo che fornisce a quegli eventi il significato che acquistano nella loro descrizione. Lo stesso avvenimento o circostanza che si presenta tanto interessante in una mente ricca di doti spirituali, apparirebbe a una superficiale mente comune solo una vuota scena tratta dalla vita di tutti i giorni. Il fondamento di tutto ciò sta che ogni realtà, cioè il presente inteso nel suo insieme globale, consta di due metà, il soggetto e l'oggetto. Queste due metà unite si possono paragonare a un bel paesaggio durante un forte temporale o nel riflesso di una camera oscura. O, per esprimerci in modo più semplice, ognuno si nasconde nella sua coscienza e vive in modo immediato solo in essa. Per questo, ciò che proviene dall'esterno non può essergli di grande aiuto. Sul palcoscenico uno recita la parte del principe, un altro dell'alto consigliere, un terzo svolge il ruolo del servo, del soldato o del generale, e così via. Ma queste differenze sono dotate solo di un'esistenza esteriore apparente. All'interno di tutti si cela la stessa cosa, un povero commediante con i suoi tormenti e i suoi bisogni. Così e anche nella vita, le differenze di rango e di ricchezza assegnano a ciascuno un ruolo da svolgere. Tuttavia, tale ruolo non corrisponde affatto una differenza interiore di felicità e benessere. Anche qui si cela in ciascuno un povero diavolo con i suoi bisogni e i suoi tormenti, materialmente diversi per ciascuno, ma formalmente, cioè nella loro essenza, più o meno gli stessi per tutti. Seppur in grado diverso, che non dipende tuttavia dalla posizione sociale o dalla ricchezza, cioè dal tipo di vita che ognuno conduce. Infatti, tutto ciò che veramente esiste nell'uomo e a lui accade, esiste sempre e solo immediatamente nella sua coscienza e accade per essa. Ciò che quindi è essenziale, prima ad ogni altra cosa, è la conformazione della coscienza stessa e, nella maggior parte dei casi, essa è molto più importante delle immagini che si presentano in essa. Tutto lo sforzo e i piaceri possibili riflessi nell'ottusa coscienza di uno stupido sono assai poveri rispetto alla coscienza di un Cervantes quando scriveva in una scomoda prigione il Don Quixote. La metà oggettiva della realtà presente è in mano al destino ed è perciò mutevole. L'altra metà, quella soggettiva, siamo noi stessi ed è perciò, almeno nella sua essenza, immutabile. Per questo la vita di ogni uomo, nonostante tutte le variazioni che provengono dall'esterno, è interamente attraversata dallo stesso carattere che egli possiede e si può paragonare a una serie di variazioni sullo stesso unico tema. Nessuno può uscire dalla propria individualità. Come l'animale, per quanto lo si mette in rapporto con qualsiasi realtà esterna, rimane limitato nella cerchia ristretta delle possibilità entro cui la natura ha irrevocabilmente rinserrato il suo essere, che poi è la ragion per cui, ad esempio, qualsiasi nostro sforzo per render felice un animale a cui siamo affezionati, proprio in virtù di quei limiti del suo essere e della sua coscienza, debbono essere contenuti entro quei limiti ristretti, e così è anche per l'uomo. Con la sua individualità è già prefissata, sin dall'inizio, la misura della sua possibile felicità. In particolare, i limiti delle sue forze spirituali hanno stabilito, una volta per tutte, la sua capacità di un elevato godimento. Se i suoi limiti sono ristretti, tutti i tentativi operati dall'esterno, tutto ciò che gli uomini e la fortuna faranno per lui, non saranno in grado di portarlo al di fuori della misura comune e semi animalesca della felicità e dei piaceri della maggior parte degli uomini. Sarà destinato a rimanere all'interno dei piaceri dei sensi, di una triste o serena vita familiare, di una cerchia di amici di bassa lega e di passatempi volgari. Perfino la cultura, nel complesso, non può far molto per allargare quella cerchia, ammesso anche che possa qualcosa. Infatti, i piaceri più alti, più variegati e durevoli sono quelli spirituali. Ma questi dipendono fondamentalmente da una forza innata in noi. Da tutto ciò risulta quindi chiaro quanto la nostra felicità dipenda da ciò che noi siamo, dalla nostra individualità. Un povero sciocco rimarrà sempre un povero sciocco e un ottuso imbecille rimarrà un ottuso imbecille fino alla fine dei suoi giorni. Che la componente soggettiva sia di gran lunga più essenziale delle componenti oggettive viene confermato da tutto, a cominciare dal fatto che la fame è il miglior cuoco e che al vecchio appare indifferente colei che per il giovanotto è una dea, fino a giungere alla vita del genio e del santo. La salute, in particolar modo, supera talmente tutti i beni esteriori che veramente un mendicante sano è più felice di un re ammalato. Un temperamento calmo e sereno che scaturisca da una salute perfetta e da un organismo felice, un'intelligenza chiara, vivace e penetrante in grado di afferrare bene la realtà, una volontà moderata e immite e di conseguenza una buona coscienza, sono i beni preferibili a tutto e nessun rango sociale e nessuna ricchezza possono sostituire. Infatti ciò che uno è per sé stesso, ciò che lo accompagna nella solitudine e nessuno può dargli o prendergli è con tutta evidenza per lui più importante di tutto ciò che può possedere. Un uomo di grandi doti spirituali, nella più completa solitudine, si intrattiene in modo eccellente con i suoi pensieri e le sue fantasie, laddove invece un povero di spirito non riesce a fugare la noia che lo affligge neanche con un continuo variare di compagnie, spettacoli, gite, divertimenti. Un buon carattere misurato e mite può essere contento anche in condizioni misere, mentre un cattivo carattere avido e invidioso non lo è neanche con tutte le ricchezze del mondo, ma per colui che può fruire durevolmente di una individualità straordinaria, superiore spiritualmente, la maggior parte dei piaceri, che in genere tutti ricercano, sono del tutto superflui, anzi risultano perfino pesanti e disturbanti. E quindi di gran lunga la prima cosa più essenziale per la felicità della nostra vita è ciò che noi siamo, la nostra personalità, in primo luogo perché è costantemente presente e attiva in qualsiasi condizione ci troviamo, e poi perché non è sottoposta ai mutamenti della sorte, come i beni che appartengono agli altri due gruppi, e non può esserci strappata dalle mani. Perciò il suo valore può dirsi assoluto in contrapposizione di quello puramente relativo degli altri due gruppi. Solo la forza onnipotente del tempo esercita anche qui i suoi diritti. L'unica cosa che è il nostro potere a questo riguardo è quella di sfruttare la personalità che ci è stata data nel modo migliore possibile, scegliere quindi lo stato, l'occupazione e il genere di vita che più si possono armonizzare con la nostra personalità. Un uomo herculeo, dotato di straordinaria forza muscolare che sia stato obbligato da circostanze esterne a un'occupazione sedentaria, lasciando inutilizzate altre potenzialità che al contrario possiede in modo eccellente, si sentirà infelice per tutta la vita. Ma ancor più infelice si sentirà chi possiede forze intellettuali di gran lunga superiori e che non può né sviluppare né sfruttare, svolgendo un'occupazione comune che non ha bisogno di quelle qualità o addirittura un lavoro fisico per il quale non possiede forze a sufficienza. Dalla decisiva e preeminente importanza di tutte le cose che abbiamo raccolto nel primo gruppo rispetto a quelle che abbiamo riunito negli altri due scaturisce la conclusione che è più saggio mirare alla conservazione della salute e all'affinamento delle proprie capacità piuttosto che all'acquisizione di ricchezze, il che tuttavia non va frainteso al punto che si debba trascurare l'acquisizione di ciò che è necessario e conveniente. La vera e propria ricchezza, cioè la sovrabbondanza di beni, tuttavia può poco per la nostra felicità. Per questo molti ricchi si sentono infelici, essendo privi di un'autentica formazione spirituale e quindi di un qualche interesse oggettivo che sia in grado di occuparli in attività intellettuali. Ciò che la ricchezza può offrire ha un influsso modesto sul nostro autentico benessere. Anzi questo viene turbato dalle molte inevitabili preoccupazioni che comporta il mantenimento di grandi averi. Eppure gli uomini si adoperano per procurarsi ricchezze mille volte più di quanto non si curino della propria formazione spirituale, mentre è assolutamente certo che ciò che uno è contribuisce molto di più alla nostra felicità di ciò che uno ha. Vediamo così alcuni uomini protesi dalla mattina alla sera con un attivismo frenetico degno della laboriosità delle formiche ad aumentare ricchezze già esistenti. Costoro non vedono nulla al di là dell'orizzonte ristretto dei mezzi necessari per perseguire tal fine. Il loro spirito è assolutamente vuoto e quindi non ricettivo per tutto il resto. Le gioie più alte, quelle dello spirito, sono loro precluse. Essi cercano in vano un surrogato di queste concedendosi di tanto in tanto piaceri fuggevoli, sensuali, che durano poco tempo ma costano molto denaro. Alla fine della vita, se la fortuna li assiste, si ritrovano come risultato effettivamente una gran somma di denaro che lasciano agli eredi perché la incrementino ancora di più o viceversa la consumino. Tali persone che pur hanno vissuto tutta la vita con un volto serio e grave sono stolte come altre che hanno portato apertamente, come simbolo, il berretto da buffone. Ciò che uno ha in sé stesso e dunque la cosa più importante per la felicità della sua vita è proprio perché questa componente è in genere così scarsa che la maggioranza di coloro che hanno vinto la lotta con l'indigenza sono altrettanto infelici di coloro che ancora lottano contro di essa. Il loro vuoto interiore, l'insulsagine della loro coscienza, la povertà del loro spirito, li spinge a ricercare la compagnia che tuttavia è formata poi da gente come loro. Nasce da qui la caccia comune ai passatempi e ai trattenimenti che costoro cercano anzitutto nei piaceri dei sensi, divertimenti di ogni genere e infine nella dissolutezza. L'origine dell'inguaribile dissipazione per cui tanti che hanno fatto il loro ingresso nella vita come ricchi figli di famiglia scialacquano la loro grande fortuna in uno spazio di tempo incredibilmente breve. Così quando un giovane molto ricco esteriormente ma povero interiormente viene mandato nel mondo, brama ardentemente ma in vano, di colmare il vuoto interiore con le ricchezze esteriori, prendendo tutto dall'esterno. Non ho bisogno di sottolineare l'importanza dei beni afferenti agli altri due gruppi. Il valore del possesso è ogni giorno così universalmente riconosciuto che non ha bisogno di alcuna raccomandazione. Il terzo gruppo ha però, nei confronti del secondo, una consistenza molto eterea, in quanto consiste solo nell'opinione degli altri. Tuttavia il secondo e il terzo gruppo stanno tra loro, per così dire, in un rapporto di azione reciproca perché godere di una buona rinomanza altrui in tutte le sue forme è soltanto di aiuto per arricchirsi.